Meghan Markle e il principe Harry potrebbero coinvolgere la loro figlia minore Lilibet nelle tradizioni di Halloween quest'anno, poiché i Sussex celebrano l'occasione per la prima volta come una famiglia di quattro persone, il principe Harry, 37 anni, e Meghan Markle, 40, hanno dato il benvenuto alla loro figlia Lilibet Lili Diana a giugno. La coppia si è ritirata dai doveri all'interno della famiglia reale all'inizio del 2020. Meghan e Harry, insieme al loro primogenito Archie ora due hanno creato una casa a Montecito, in California, dove la coppia ha acquistato una villa da 11 milioni di sterline. Il loro ritiro dalla famiglia reale li ha visti trasferirsi negli Stati Uniti per perseguire uno stile di vita finanziariamente indipendente. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti, la famiglia non è tornata nel Regno Unito come unità, ma il principe Harry ha fatto due viaggi da solo, uno per il funerale del principe Filippo ad aprile e uno per svelare una statua commemorativa della sua defunta madre, la principessa Diana, a luglio. Halloween è una festa celebrata su larga scala negli Stati Uniti e mentre si avvicina, i Sussex potrebbero scegliere di entrare nello spirito spettrale vestendo i propri figli per l'occasione. Si dice che il duca e la duchessa del Sussex abbiano già partecipato alle feste di Halloween insieme in passato. Quest'anno potrebbero scegliere di celebrare la vacanza con i loro due bambini su una scala più piccola del normale a causa della pandemia di Covid-19. I Sussex potrebbero scegliere di intagliare la zucca o persino indossare costumi per qualche dolcetto o scherzetto del vicinato. Punto punto. Halloween sarà una delle prime festività che celebrano come una famiglia di quattro persone, quando la coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2016, Meghan ha pubblicato una foto di se stessa con un'enorme zucca davanti al viso sul suo account Instagram personale, ora defunto. Da allora sono emerse speculazioni sul fatto che Harry fosse la persona dietro la telecamera. In precedenza, la coppia ha suggerito di avere un adorabile costume per il loro figlio maggiore, Archie, che potrebbero usare per la loro nuova aggiunta.